eccoci sempre qui cosplay ecco qui ci sta pepo3393 ecco qui mette sacconi i fans ciao pepo permetti? va bene eccolo qui allora dacci due anticipazioni eh ma una presa per il no? in serio? davvero? questo è vero non è cosplay? cosplay tj vai? eh che devo dire? lo so anticipazione i prossimi giorni stai preparando qualcosa? è un video normalissimo dove ho fatto tutte le foto e le caricherò e ho le foto della giornata di oggi di questi giorni? sì esattamente ecco seti e tutti i tuoi contatti ce li ricordi? su youtube sul salutatore del blog su news 25 e allora il nome del mio canale è pepe3393 e sul facebook pepe3393 e facevo parte del network di riuque 4316 perfetto seti come sta andando? sta andando abbastanza bene sia il canale sia questo contesto devo dire non mi aspettavo che andasse così ecco questo è importante abbiamo visto un grandissimo afflusso e quest'anno abbiamo visto anche più stand o sbaglio? più stand? sì molti di più l'anno scorso sono venuto anche molti di più ma anche molte più persone ah perciò è il suo di meno fino ad oggi? eh amici miei chiedo scusa ecco potete inquadrare gli amici di pepo fanno parte del network di riuque 4316 grandi ecco qua venite tutti dietro allora venite tutti qua tutti da pepo venite qua tutti qua qua dietro facciamo un super saluto al tuo canale a tutti i nostri a tutti i nostri ricordiamo tutti i canali chipjack gamerilly il canale di jc ulisse ulisse 1996 marco gamer 99 più piano marco gamer 99 perfetto allora facciamo un saluto a tutti gli utenti su youtube, myspace, facebook e twitter ciao ciao eeeh a tutti fiere di roba cosplay 2014 ciao arrivederci ciao arrivederci c'è sempre da aspettarsi qualcosa soprattutto da tg ciao chissà tg salutatore del blog news 25 ciao grazie